Via Libera dal Consiglio Comunale al progetto per i lavori di riqualificazione di via bonifica tra Portofuori e Lid Adriano. Sarà ora possibile iniziare il percorso per redigere il bando con il quale assegnare i lavori. Con l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di una pista ciclopedonale protetta da un cordolo, si punterà quindi ad aumentare la sicurezza in una delle principali vie di collegamento della città con il mare. 3.300.000 euro il costo dell'opera. La richiesta di intervento da tempo era stata avanzata all'amministrazione comunale e consentirà anche il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico di linea. È stata approvata sia la contradduzione al soggetto, ad uno dei soggetti espropriati che chiaramente ha rilevato, nel quale si è rilevato un'incongruenza tra quelle che erano le mappe catastali e quello che era la situazione di fatto, la situazione reale, cosa che chiaramente non va assolutamente incidere nel progetto ma semmai era una questione di contenzioso con il privato. Si è approvata la variante al POC, questo permetterà chiaramente di andare spediti, a realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva e anche a continuare le procedure di sproprio. L'investimento è un investimento importante, 3.300.000 euro, una strada chiaramente importante che collega Portofuori di Adriano ma che collega di fatto la città al mare e che diventa un'alternativa chiaramente valida anche a via Canale Molinetto, ci sarà realizzata una pista ciclabile importante di 2,50 m, insomma finalmente si dà in là quello che è tutto l'iter per poter vedere realizzata l'opera nei prossimi mesi. Finita la progettazione si procederà alla gara d'appalto e quindi per vedere ha aperto il cantiere nel 2021.